Il Vescovo ha intitolato la Chiesa Sotterranea a San Giovanni Paolo II e per noi questa Chiesa diventa occasione per tutti quanti i pellegrini per dire grazie a Dio Trinità per il dono grande della venuta di San Giovanni Paolo II. In questa Chiesa abbiamo posto una reliquia di San Giovanni Paolo II, una sciocca di capelli con l'autentica che il Cardinal Comastri ci ha regalato e allora ecco la conferenza oggi di Rino Fisichella ci ha ripresentato la figura forte di San Giovanni Paolo II e ci ha ricordato che è importante spalancare il nostro cuore al Signore perché Lui sa tutto quello che c'è nella nostra vita, soprattutto vuole donare a tutti quanti noi tanta serenità, tanta pace. Che questa Chiesa diventi sempre più occasione per i tanti pellegrini che frequentano questo santuario per camminare sulla strada della Santità accompagnata dall'esempio dei Santi oggi di San Giovanni Paolo II. Viva la Santissima Trinità!